Buonasera a tutti, benvenuti, ancora una serata di Bristol Talk, siamo arrivati ad aprile, questa è la penultima, fede e sessualità. Dunque questa sera ho un po' più di cose da dirvi, vedo che non siete moltissimi, bene, perché la sessualità è un argomento intimo, come sapete, quindi ce lo gestiamo in pochi, meglio, e quindi mi metto a sedere, mi perdonerete, ma sono anche un po' zoppo, quindi approfitto subito della sedia. Dunque, fede e sessualità. Quando il donno ha proposto questo argomento, è subito in me scattato questo attrito, credo anche in voi, la fede, la religione e la sessualità vanno poco d'accordo, almeno da un primo punto di vista, sono perennemente contrastanti, danno subito origine a un attrito nel nostro cosciente, insomma. La morale della Chiesa è percepita come qualcosa di repressivo, in gran parte tendente più all'oppressione che alla liberazione del desiderio, che di sua natura è appunto vagabondo. Il desiderio desidera a prescindere dalla morale, è indifferente alla morale. Per cui la sessualità al giorno d'oggi è tema, campo di divisione tra chi segue una religione e chi non la segue. Parlo di una religione genericamente, proprio perché ogni religione, in un modo o nell'altro, si è posta come normativa in ambito sessuale. e chi invece non crede, o comunque non aderisce a religioni, fa fatica a capire perché imbrigliare così fortemente questo elemento errante che è il nostro desiderio, sessuale e non, ma sessuale soprattutto. Perché negare la sessualità che ci dà la vita, che fa vivere i momenti più belli della nostra vita. Vedremo dunque come questi argomenti possono stare insieme, d'altronde religio, religio a religionis significa mettere insieme due cose diverse, principalmente due nature diverse, la natura di Dio con la natura umana. E qui capiamo che subito che concorre con l'ambito sessuale. La sessualità è mettere insieme due cose diverse. La natura umana si polarizza in maschile e femminile, chi li unisce è la sessualità e dall'unione di queste distanze si provoca la vita, si nasce la vita. Nonostante questa forte competizione, la sessualità che ci chiama all'unione carnale, che ci chiama agli affetti, agli ardori terreni, la spiritualità, la religione che invece ci vorrebbe protesi al cielo. Nonostante questo vediamo che religione e sessualità parlano una lingua comune. C'è un grande bacino semantico da cui pescano entrambe, la religione e la sessualità. Pensiamo alla parola amplesso. Inizialmente può significare, il significato più immediato è quello di rapporto sessuale tra uomo e donna. San Bernardo parla di amplesso celeste, la copula celeste, per significare il rapporto che ci sarà tra la Chiesa e Dio in cielo. È un linguaggio religioso ma che prende dal sessuale, pensiamo all'estasi, un termine propriamente sessuale che però viene traslato nell'estasi religiosa. Può essere estasi dei sensi quanto estasi spirituale, della mistica, quante volte abbiamo sentito parlare di godimento mistico, del piacere dell'unione contemplativa, di incanto, di ebrezza amorosa. Sono termini che possono appartenere al registro semantico della sessualità come al registro semantico della religione. La metafora sessuale tra l'altro è presentissima anche nei testi biblici, parleremo dopo con Don Federico Badiali. Se provassimo a dare un volto alla sessualità, noi che abbiamo una cultura latina e con iniezioni dell'immaginario greco, probabilmente le daremo il volto di Afrodite. I greci usavano la mitologia per esprimere le passioni degli uomini, Afrodite è la personificazione della sessualità, è venere per i latini, è la venere del Botticelli, è questa ragazza bionda, questa dea, che esce dalla conchiglia. Quando noi pensiamo alla sessualità, forse possiamo darle questo volto, essendo di cultura latina e quindi pescando nell'immaginario greco. Mi interessa questo, di Venere, o meglio Venus, la parola che usavano i latini per designare questa dea. Mi interessa il percorso di questa parola. Inizialmente significa bellezza, grazia, poi diviene attrazione, perché ciò che è bello attrae, poi diviene godimento, perché l'attrazione porta a godere di ciò o di chi, dell'oggetto, del soggetto che mi ha attratto. Se continuiamo a seguire la deambulazione della parola Venus, troviamo che dalla radice ven proviene anche la parola venerazione, che è l'atteggiamento dell'uomo religioso. Quindi dalla personificazione della sessualità proviene l'atteggiamento dell'uomo religioso. Quindi oltre la apparente contraddizione possiamo scorgere che ci sia un'unione profonda. E a proposito di un'unione profonda, qual è il nesso, qual è il legame? Mi sono chiesto. Probabilmente ce n'è più di uno. Certamente la fondata delle radici nella preistoria, sia la religione sia la sessualità, esistono nell'uomo da che l'uomo è l'uomo. Insomma, diceva già Plutarco, possiamo trovare popoli, tribù, che non hanno l'idea della famiglia, delle istituzioni, dei rapporti di autorità, ma non troveremo mai popoli che non hanno idea del religioso e che non praticano una religione. Possiamo traslare questo anche in ambito sessuale. L'uomo è sessuato, ma non vuol dire che ha istinti sessuali e che vive la sessualità in modo animale. Vuole dire che in ogni popolo, da che l'uomo è l'uomo, la sessualità si è fatta culturale, si è fatto un elemento umano. Grande elemento di congiunzione tra il sessuale, tra il sacro e il religioso, tra il sacro e il profano, Rudolf Otto definì il sacro misterium fascinans, misterium tremendum, misterio che affascina, misterio che spaventa. Questo l'abbiamo nelle più grandi tradizioni religiose da sempre, fin dagli ebrei, ma poi si trasmette al cristianesimo, ma poi si trasmette all'islam. Dio è grande, meraviglioso e tremendo al contempo, spaventa e attrae. Non a caso l'antropologia pone come più grande paura dopo la morte il timore di Dio. Timore di Dio, però anche timore del sesso. Chi non ricorda l'adolescenza, ma qui abbiamo uno psicologo, tra poco il dottor Seghi ci farà una lezione sulla sessualità e sulla fede, certamente può confermare che il fatto di essere affascinante e tremenda, soprattutto nella adolescenza e nella preadolescenza, è un tratto che la religione, che la sessualità condivide con la religione. Quando gli ormoni scoppiano nel corpo di un ragazzo o di una ragazza, non è solo un elemento che si aggiunge, cambia la visione del mondo, diventa sessuata, è come il sole al tramonto, dice qualcuno, che sparge la sua luce su ogni cosa, non è solo una cosa, è in più o in meno nel cielo. E quindi questo tratto di attrazione e di respingimento. Dalla radice ven di Venus deriva anche la parola venenum, veleno, che è una vox media, come farmacon in greco, può voler dire ciò che guarisce, ciò che risana o anche ciò che uccide, oltretutto nell'uccidere è molto subdolo, come si uccide col veleno, si sparge nel cibo e nell'atto di godimento del cibo sono ucciso dal veleno. Siamo a Eros etanatos, vediamo che dalla radice venere, Venus, personificazione prima greca e poi latina della sessualità, scopriamo che la sessualità ha una dimensione vitale, una dimensione potenzialmente distruttiva. Siamo nel grande mistero della vita e della morte. Io ho detto tutto questo, forse vi ho annoiato, ho detto le cose un po' noiose, ma per me sono molto interessanti per capire che c'è un nesso e che se noi ci ostiniamo a negare il nesso tra sessualità e religione, certamente vivremo una religione, una religiosità, un insieme di pratiche disincarnate senza sangue, senza carica erotica, che è poi come si vive normalmente la religione, purtroppo, e che in fondo non animano, mancano dell'anima, mancano della fecondità. Gli angeli, disse qualcuno, sono puri ma sono sterili, noi siamo umani e non siamo puri ma siamo fecondi. Questo in senso lato, parlo di religione, ora non di sessualità. La fede cristiana forse in qualche modo può aiutarci a vivere, lo chiederemo prima alla psicologia, poi lo chiederemo all'antropologia con Don Federico e vedremo però anche quali trappole si nascondono quali germi nefasti nel pensiero religioso, pensieri colpevolizzanti della sessualità, i pensieri di non accettazione dell'impulso, qualcosa su cui scrive molto anche Sant'Agostino, noi abbiamo qualcosa dentro di noi che prescinde dalla nostra volontà, c'è un desiderio vagabondo, motus genitalium, sine volontade est, il moto del genitale, prima ancora del sessuale, prescinde dalla volontà. Tra poco vi introduco il nostro ospite, io ho quasi finito, state sereni. Dottor Dario Seghi, uno psicologo, noi chiediamo appunto alla psicologia di affondare lo sguardo in questo pensiero, questa branca del sapere umano che indaga la nostra mente, il mistero della sessualità nel suo rapporto con la religione. Ma prima vogliamo che sia lo stralcio di un grande pensatore francese, Laurent Béreau, che parla dell'enigma della sessualità, la sessualità come tormento in quanto è enigmatica, è quello che abbiamo detto prima, le parole gutturali in greco, convocano una potenza che sfugge al controllo dell'uomo. Non vi tedio oltre. Dalla voce di Paola Gatta, Laurent Béreau. Eros è enigma. Non è un caso se la Genesi parte proprio di lì. Il primo comandamento di Dio è crescete e moltiplicatevi, ossia praticate la sessualità di cui vi ho dotati. scopriamo che il desiderio sessuale ha origine in Dio. Il culmine dell'Antico Testamento è il Cantico dei Cantici, poema dell'amore carnale, prima che spirituale. La teogonia orfica, ripresa poi da Platone, descrive la Genesi di Eros. Egli è figlio di povertà, penia. L'amore si costituisce di una mancanza. Anzi, l'amore, come la povertà, è la sintesi di ogni mancanza. Perciò l'amore ha fame, come la povertà, e desidera, come la povertà, con violenza. La sua natura è il desiderio stesso, che non si placa con la soddisfazione, ma si acuisce e ritorna più forte. Perché l'amore è sempre il riflesso di qualcosa di superiore, a cui la materia non basta. Esso esprime sempre l'insufficienza dell'immanente. Ogni suo dire è incompleto. Ogni suo fare incompiuto. Platone si rifà al mito dell'unità originaria di maschile e femminile per spiegare il desiderio dei corpi e degli spiriti amanti a non fare mai a meno gli uni degli altri. Platone ascrive l'amore alla categoria dell'indicibile. Gli amanti, suggerisce, tentano di dirsi ciò che non riescono a dirsi. Per questo parlano il linguaggio della follia. È qualcosa che troviamo anche in Shakespeare. Giulietta dice, solo i poveri possono contare le proprie ricchezze, ma l'amore non è possibile contarlo, soppesarlo. Torniamo all'inizio. Eros è enigma. Per questo, per gli stessi amanti, Eros è anche tormento.